È cambiato che mentre in precedenza si utilizzava per il controllo dei conti delle strutture di riferimento regionale l'albo che fa riferimento alla revisione degli enti locali e nello specifico attingendo dalla categoria di maggiore esperienza e quindi tenendo fuori la categoria dei giovani che è molto importante, dei giovani professionisti oggi con l'emendamento noi abbiamo allargato la platea dei concorrenti e abbiamo permesso anche a tutti i revisori legali di poter concorrere poi sarà alla qualità della politica riuscire a selezionare le persone più adeguate per svolgere il controllo della contabilità economica piuttosto che quella di profilo pubblicistico perché gli enti regionali hanno anche una differenziazione nel sistema contabile con questo emendamento noi apriamo a tutti, diamo a tutti la possibilità di concorrere e mi auguro che nell'ambito delle selezioni che andremo a fare presteremo attenzione anche ai giovani professionisti che nell'ambito dei collegi di revisione potrebbero trovare uno spazio per crescere insieme ad altri invece lì dove dovesse essere un solo revisore avremo l'attenzione di scegliere quelli con maggior esperienza ecco quindi uno spazio aperto a tutti, una norma inclusiva, una norma che valorizza le professioni e che apre una piccola possibilità anche ai giovani professionisti chiaramente quelli che esercitano il controllo delle contabilità ecco l'aspetto legato soprattutto alle revisioni come dicevo poc'anzi